Per l'affetto che ci avete dimostrato di questo momento così difficile della nostra vita e spero che questo, questo evento così tragico, possa portare insegnamento a tutti noi perché nulla viene per caso, perché il Signore ha un insegno anche nella nostra famiglia e in tutti noi che siamo qui, perché tutti abbiamo conosciuto Riccardo e in qualche modo lui comunque ha dato un po' di amore diversificato a ognuno di noi e il suo contatto ha portato sicuramente un bene perché lui era un vuoto ha dato, se voi siete qui, significa che Riccardo ha dato amore una cosa profonda che oggi solo i giovani ci possono insegnare perché loro sono profondi, vogliono le cose siniziali, vogliono la società vogliono la lealtà, vogliono tutti quei valori che oggi invece noi adulti non gli sappiamo forze dare allora, se mio figlio è riuscire ad adonare tutta questa gente significa che lui ha dato tanto amore e questo amore oggi noi dobbiamo impegnarci a rispondere a tutti e il pezzo di amore che lui ha dato, noi lo dobbiamo ridare è in questo modo che così tanti che siamo possiamo cambiare un pochino la città di terra e piano piano si può cambiare anche tutto il mondo perché a tutti non piace questo mondo vorremmo tutti un mondo migliore però oggi Riccardo ci dice che noi ci dobbiamo impegnare dobbiamo dare quel pezzettino di amore che brucia l'ago lo dobbiamo diffondere in modo che il terra sia diverso che l'Italia sia diverso e che il mondo sia diverso perché questi giovani ci sono stancati con questo mondo così vogliono un mondo diverso allora impegniamoci oggi a dare questo amore questa solidarietà questa realità questa riuscizia tutti quei valori che nessuno non parla io spero che la vita di mio figlio sia stata donata per poter cambiare qualcosa grazie a tutti 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 grazie a tutti